Ho trascosso la medita sola, senza nessuno più poter parlare, fino a quando ho avuto questo accidente con la menade volante. Questa è la sua cassetta, la becora che vuole resta dentro. Questo è proprio quello che tu vedevi, giustissimo che non accordevi. Il tenete in questione è la sera di Itaca B612, ha avvistato solo una volta per il nostro telescopio. Apparivano un mattino e si spegnevano la sera, ma questo era uno scelto che non assomigliava a nessun altro e era smutato a un segno venuto da chissà dove. Sono ancora tutta spettivata. Come sempre. Vero. Un poco di acqua fresca. Ti ho intendo di partire? E ti nomino mio ambasciatore. Ti ammiro, ma tu che te ne fai? Fammi questo piacere. Ammiro mio stesso, ti prego. Addio. Non andartene. Tu sei il mio ammiratore. Non andartene. Vero. E perché vedi? Per dimenticare. Per dimenticare che cosa? Per dimenticare i cappelloni. Per dimenticare i cappelloni. 500 milioni di carri? 500 milioni di carri. Non lo so più. Talvezza. Ce ne sono sempre tu. Non hai fortuna. Non ho fortuna. Buongiorno. Tu sei il solo che mi avrei potuto fare amico, ma il tuo pianeta è veramente troppo vicolo. E io l'ho lasciato solo. Prosegue il tuo viaggio. Ti consigliamo di andare a visitare il pianeta Terra. A una buona reputazione. Ci si contano 111 re, 7.000 di geografi e 900.000 uomini da fare. 7 milioni e mezzo di piacoli, 312 milioni di paritosi, cioè 2 miliardi circa di adulti. Dove siamo? Sulla terra, nel risale di carri. Certo, tu fissone per me non sei un canzino. Uguale a 100.000 ragazze. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono un canale uguale a 100.000 ragazzi. Ma se tu mi accorresti, noi avremo bisogno di uno del lato. Guardate il cielo e domandatevi. La fecora ha mangiato o non ha mangiato il fiore. Vedrete che tutto cambia. Resta solo l'amarezza. Itacca, itacca, itacca. La mia casa ce l'ho solo là. Itacca, itacca, itacca. La mia casa ce l'ho solo là. Grazie a tutti.